Ascolti TV e share del Prime Time di giovedì 16 dicembre 2021 Un professore, serie TV con protagonista Alessandro Gasman in onda su Rai 1, si conferma imbattibile. Lungo la serata di ieri ha addirittura incrementato gli ascolti rispetto a sette giorni fa, interessò 4.430.000 utenti, coinvolgendo 4.699.000 spettatori e facendo schizzare lo share al 23%. Risultati molto differenti per Canale 5 che con caduta libera campionissimi ha conquistato quasi 2,5 milioni di persone, di parecchio sotto all'ultima puntata di Zelig in onda lo scorso giovedì. Bisio fece il 17,9% di share, Gerry Scotti il 13,8%. Altro profondo rosso per Rai 2, 60 su le due ha avuto un ascolto di soli 663.000 spettatori, share rinchiodato al 3,3%. Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata. Rai 1, un professore ha raccolto 4.430.000 spettatori, 21,2%. Rai 2, 60 sul due ha interessato 663.000 spettatori, 3,3%. Rai 3, il film non ci resta che vincere ha catturato l'attenzione di 687.000 spettatori, 3,3%. Rete 4, dritto e rovescio è stato visto da 956.000 spettatori, 5,6%. Canale 5, caduta libera campionissimi ha convinto 2.468.000 spettatori, 13,8%. Italia 1, il match di Coppa Italia-Sampdoria vs Torino ha intrattenuto 1.170.000 spettatori, 5,2%. La 7, piazza pulita ha incollato innanzi al teleschermo 951.000 spettatori, 5,9%. TV 8, Man in Black International ha raccolto 552.000 spettatori, 2,6%. 9, Lady Gucci La storia di Patrizia Reggiani ha convinto 520.000 spettatori, 2,4%. 9, training di Patrizia Reggiani ha incollato il nostro canale大家好. La settingità square è importante. Grazie a tutti